Siamo arrivati alla fine di questa prima fase di campionato, alla fine di questo tour de force di un mese e mezzo circa, denso di partite dove abbiamo fatto praticamente una gara ogni tre giorni e mezzo, quattro giorni e devo dire che non potevo chiedere una fine migliore di questa prima parte. Abbiamo chiuso con un 3-0 nella trasferta qui a San Bonifacio contro l'Igevo, è stato un risultato devo dire tutto sommato abbastanza netto, c'è stata qualche sbavatura quella nell'arco dei set ma nulla di particolare, abbiamo fatto una buona preparazione partita su quei due o tre punti che andavano messi in campo stasera e le ragazze sono state molto brave a rispettare le consegne. Sono anche contento che comunque abbiamo ritrovato una discreta condizione fisica dopo comunque una settimana molto travagliata, da questo punto di vista siamo arrivati a giovedì con qualche acciacco di troppo quindi il mio timore era comunque arrivare a fare una trasferta non scontata in termini di risultato con una squadra comunque non in forma, invece tutto sommato le sensazioni già durante la trasferta erano buone, sentendo le ragazze si sentivano bene anche dopo il riscaldamento ma hanno un po' confermato questa cosa, infatti le ho viste abbastanza bene anche fisicamente. Siamo riusciti a mettere in campo una pallavolo ordinata, precisa nelle consegne e quindi insomma abbiamo portato a casa il risultato. Adesso ci aspettano una decina di giorni di riposo in cui andremo a prepararci per poi affrontare l'annata e ritorno della prima fase dei playoff, adesso andiamo un attimino a vedere le classifiche e vedere i nostri prossimi avversari, cerchiamo di prepararci al meglio e di fare il possibile per onorare il proseguimento del campionato. Grazie e buona domenica.